Fabio Belloni è un fotografo italiano che esplora i posti più abbandonati e cattura l'atmosfera inquietante ma allo stesso tempo affascinante di questi luoghi. I suoi lavori sono caratterizzati dall'uso di una palette di colori molto freddi. Il fulcro di quest'opera è la porta a vetri che ha alcune sezioni in vetro giallo che contrastano con il colore grigio che pervade l'intera fotografia. L'uso della modalità in manuale gli permette di avere il controllo su ogni singolo dettaglio della foto e ottenere un risultato unico.